Non è ancora il tempo delle risposte per il rimpasto alla giunta comunale di Taranto nell'ampio giro di consultazioni delle forze di maggioranza tenuto dal sindaco Rinaldo Melucci tutto ruota attorno alle richieste di Italia Viva. Lo Stato Maggiore del Partito Renziano, guidato dal Presidente regionale Massimiliano Stellato, nel corso del primo incontro fissato nella mattinata di martedì 3 a Palazzo di Città, ha ribadito le richieste già presentate con chiarezza prima della pausa estiva, un assessorato e un consolidamento dei posti di sottodoverno. Il primo cittadino avrebbe risposto adombrando anche la possibilità di un piano B con un ulteriore potenziamento di Italia Viva nelle aziende partecipate senza sconvolgere gli attuali assetti di giunta. Da parte di Italia Viva non c'è stata una chiusura totale, ma la risposta definitiva arriverà dopo la riunione dei vertici locali del partito che la comunicheranno al primo cittadino. Solo allora il sindaco Melucci prenderà una decisione definitiva sui nuovi assetti di giunta e sottogoverno, probabilmente entro la fine della settimana. Abbiamo anche chiesto di essere rappresentati nel governo e nel sottogoverno della città. Il sindaco ha proposto alcune soluzioni che vanno incontro alle nostre esigenze di coinvolgimento. Siamo un partito nazionale, per questo a strettissimo giro riuniremo il partito, i quadri dirigenti e gli iscritti per dare al sindaco la risposta alla domanda che ci ha fatto.